Gran premio della giuria come miglior autore Under 25 per Diverso, nome d'arte di Ciro Cafforio, giovane scrittore grottagliese, un riconoscimento giunto da Taggia in provincia di Imperia, luogo nel quale si è svolta la ventottesima edizione del concorso nazionale di poesia inedita, Ossi di Seppia, in ricordo dell'illustre poeta Eugenio Montale. Sentirsi diversi è il titolo della poesia vincitrice, un'opera che mette in risalto in maniera intima e diretta le tante fragilità di chi subisce le conseguenze di un destino avverso, di chi viene escluso ed è sofferente dinanzi ad una realtà spesso poco incline all'ascolto e alla comprensione, una poesia che al tempo stesso rappresenta un deciso e consapevole passo verso se stessi, verso le proprie paure di inquietudine affinché queste possano essere accettate ed affrontate. Ho scritto Sentirsi diversi, racconta l'autore, con l'esigenza di evidenziare il disagio che scaturisce a tale condizione esistenziale, soffermandomi in particolar modo sull'aspetto psicologico che risiede oltre le apparenze. È una poesia che urla il dolore di chi non ha voce, di chi risulta sconfitto da una realtà ostile e dal tempo stesso ripone in se stesso la forza, il coraggio e la determinazione per un riscatto morale e sociale.